ciao ragazzi oggi giornata relax non vado per niente nel bosco che è tre giorni di fila che ci vado quindi mi riposo e vediamo diego cosa ha trovato ciao mi sa che è un broccato il punto ciao voglio dire non ho mai castagni per anche porrino guarda che bestia